Dopo i messaggi del Presidente Zeleski ci colleghiamo con Irina Guley, giornalista ucraina. Ben ritrovata Irina, eccoci. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Intanto ti chiedo come è andata la notte, l'ultimo collegamento, ci avevi parlato di sirene antiaeree che suonavano incessantemente. Questa è stata una notte più tranquilla? Diciamo che qua a Dovest era più tranquilla, sì, però per dire di Kharkiv, Kiev, Kherson, Donbass e Lugansk c'era sempre la notte con tante e tante sirene. Ecco Irina, allora ci hai inviato come sempre delle immagini. La prima che facciamo vedere riguarda un carro armato, prego la regia di metterlo in onda. E questo è proprio l'attività purtroppo bellica di un carro armato. Che cosa stiamo vedendo Irina? Quindi vediamo un carro armato russo che spara per le case civili e non hanno niente, diciamo, loro mettono questo video proprio in rette. Si vede bene che non li ferma niente, sparano questi edifici senza nessun rimorso. Devo dire che è abbastanza impressionante perché potrebbe sembrare, sembra la prospettiva di un videogioco, no? Invece purtroppo, vedete come la realtà replica poi o viceversa, i videogiochi replicano la realtà e quel carro armato punta dritto verso i palazzi. Lo hanno messo i russi in rete, ci hai detto? Sì, 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 l'abbiamo preso da loro rette dove l'hanno messo questo video, quindi è il video russo. È il video russo. Senti, c'è qualche, come dire, notizia che riguarda le tregue che potrebbero esserci per quanto riguarda proprio questa attività, diciamo, di conflitto sul vostro territorio? Ci sono effettivamente notizie che parlano magari di l'esercito che si ritira o che non spara in questo momento? Come, diciamo, cosa si dice riguardo a questo? Diciamo che sono sempre attivi, anche se cercano di cambiare i soldati, però sempre bombardano. Per esempio, oggi hanno bombardato città di Kharkiv e un proiettile ha colpito gasdotto e quindi adesso a Kharkiv 34.000 abitanti sono rimasti senza gas, quindi senza il caldo, senza possibilità di cucinare e per adesso non è possibile riparare questo gasdotto perché sempre sparano. Non capito. Sì, e poi oggi abbiamo un'altra speranza da Croce Rossa che hanno finalmente redichiarato il desiderio e la possibilità di parlare con i russi, di fare questi negoziati per organizzare il corridoio umanitario da Mariupole. Speriamo che il primo aprile questo corridoio diventerà possibile e quindi riusciremo a salvare la nostra gente in questa città. Sì, abbiamo letto appunto la notizia che sono partiti degli autobus da Zaporizia per cercare di prendere i civili da Mariupol, che è la città in questo momento che è maggiormente colpita dall'esercito russo. Dovevamo avere delle immagini, chiedo alla regia se è possibile anche delle persone, dei cittadini ucraini che rientravano a Kiev. È possibile averle? Ce l'aveva inviata Irina, però mi pare che non sia possibile. Evidentemente le recupereremo nell'edizione delle 19 e 30. Che cosa sta accadendo Irina? Quindi c'è la possibilità di rientrare nella capitale? Sì, questa possibilità esiste e poi tanti ucraini vogliono tornare proprio a Kiev. Vi ho dato il video di mia collega che è lì a Kiev, viene a prendere queste cittadine. Ecco, vediamo il treno che arriva e ci sono tanti. Queste sono immagini di quel primo giorno quando la gente cercava di uscire da città e adesso vediamo che arriva il treno e c'è tanta gente che vuole tornare, tornarsi a Kiev. E ci sono tanti quelli che non riescono a stare lontano da Kiev, perché anche adesso a Kiev... Che belle queste immagini, che belle, sono veramente emozionate. Chi c'è? È la mamma che... È la tua mamma? È la mamma che è venuta a prendere suo figlio, che non ha visto per un mese. Che belle queste immagini, perché tra l'altro le avete montate con quelle che hanno fatto il giro del mondo, cioè delle partenze, i treni, la fila anche di giorni che si faceva per riuscire a prendere un treno e oggi finalmente abbiamo visto delle immagini veramente di speranza, cioè persone che tornano a casa e si riabbracciano. Questo è veramente molto bello. Facciamole rivedere se è possibile quel passaggio, regia, che secondo me ha anche un simbolismo e chi lo sa, magari portano anche fortuna all'Ucraina per cercare di ricominciare da capo. Eccole qua, grazie alla regia che ce le mostra e vediamo anche la giornalista emozionata. Insomma, è un po' difficile fare questo mestiere quando ovviamente si vivono queste emozioni. Questa è mamma e figlio che si incontrano dopo un mese. Irina, grazie come sempre del tuo contributo e ci vediamo questa sera alle 19.30 per una nuova pagina del tuo diario. Grazie. Sì, a presto.